Siamo a Contrada Bagnoli per occuparci di una situazione a forte rischio. Il torrente sottostante già da diversi mesi ha rotto gli argini e come possiamo vedere il muro è parzialmente crollato. Dall'altra parte poi manca un pezzo di guardrail, soprattutto nelle ore serali quando è buio, è un pericolo grossissimo perché qui si può finire tranquillamente di sotto il torrente super inquinato, c'è anche uno scaldabagno che galleggia. Massimo Passaro, una situazione di degrado e di pericolo. Scandalosa perché nel 1994, quando io denunciai la problematica, l'argine esisteva e il comune o gli enti preposti avrebbero potuto risolvere la questione. Oggi invece ci troviamo in un forte stato di degrado. Allora io mi chiedo quale effettivamente sia l'attenzione che ogni giorno si riselva al territorio, se poi ci ritroviamo queste situazioni che sono davvero pericolose per l'incolumità del cittadino. Tra l'altro vediamo la strada è piuttosto dissestata, ci sono delle buche, le auto corrono comunque in questo trato. Questa è davvero una zona ormai degradata che andrebbe riqualificata e andrebbe davvero recuperata. Questo significa davvero oggi recuperare la memoria storica di una città e soprattutto recuperare le bellezze anche naturali. Noi insistiamo con le immagini che dicono più di tante parole come possiamo vedere, insomma qui è tutto chiaro, c'è poco altro da aggiungere, ma segnaliamo ancora questa situazione di pericolo dove manca il guardrail. Sì, questa è un'altra situazione paradossale perché il guardrail è saltato, qualcuno avrebbe dovuto risistemarlo e ad oggi non esiste ancora una barriera, considerando che credo qualche mese fa una macchina è finita all'interno del torrente, ovviamente creando delle situazioni di grave pericolo soprattutto per il conducente e per il trasportato all'interno dell'autovettura stessa. Sì, questa è un'altra situazione di pericolo, è un'altra situazione di pericolo che è molto più facile. Grazie.